Buongiorno da Sicilia 24 e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che vogliamo aprire parlando di una storia a lieto fine che arriva da Caltanissetta dove un bimbo di appena 9 anni si era perso dopo essersi allontanato dalla casa dei nonni ma sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che lo hanno ritrovato e ovviamente riconsegnato alla madre. Due equipaggi della sezione volanti sono intervenuti nella periferia di Caltanissetta poiché la sala operativa dei carabinieri aveva diramato una nota di ricerca di un bimbo di 9 anni allontanatosi dall'abitazione dei nonni. Gli agenti della Polizia di Stato, avuta contezza di com'era vestito il bambino, hanno iniziato le loro ricerche partendo dall'area condominiale dove stava giocando con altri coetanei prima di allontanarsi e percorrendo tutte le vie limitrofe ad essa. Dopo aver perlustrato tutta la zona il piccolo è stato trovato in una stradina sterrata buia in preda a una crisi di pianto. Il bimbo infatti allontanatosi dall'area condominiale dove abitano i nonni per curiosare in giro aveva perso l'orientamento e anche a causa del buio si era perso. Gli agenti hanno rassicurato il bambino facendolo salire nell'auto di servizio per ripararlo dal freddo e rifocilarlo con biscotti e acqua in attesa dell'arrivo della madre. Dopo le identificazioni di rito e una foto ricordo, il piccolo è stato affidato alla donna visibilmente emozionata e grata agli agenti per il lieto fine dopo i primi momenti di paura. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo adesso a Messina per parlare di spaccio di droga e distorsione. Sono stati tratti in arresto tre malviventi, arresto effettuato dai carabinieri. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno arrestato tre persone già note alle forze dell'ordine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina poiché indagate dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata. Dall'indagine condotta dai carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Messina sarebbe emerso che i tre soggetti avrebbero messo in atto una fitta rete volta al confezionamento e allo spaccio di cocaina nel rione di Camaro Superiore. In particolare, l'attività investigativa ha documentato numerose cessioni con frequenza continua e quotidiana di dosi di cocaina che custodita nell'abitazione di uno degli indagati sarebbe stata smerciata a diversi tossicodipendenti. Sarebbero state inoltre poste in essere ulteriori condotte volte al supporto allo spaccio degli stupefacenti come il controllo e la sorveglianza della zona e l'avviso al pusher al momento del passaggio di pattuglie delle forze dell'ordine. In tale contesto sarebbero emerse anche dinamiche estorsive correlate all'attività di spaccio da parte di uno dei tre indagati. Quest'ultimo infatti, a più riprese, avrebbe minacciato un acquirente tossicodipendente prospettandogli azioni violente nel caso in cui non gli fosse stata corrisposta la somma di denaro derivante dalla cessione di svariate dosi di sostanze stupefacenti non pagate. L'attività rientra nella costante azione di contrasto al traffico, allo spaccio e all'assunzione di droga condotta dai carabinieri e dalle altre forze di polizia attraverso lo svolgimento di attività investigative, servizi di prevenzione e controllo del territorio delle aree più esposte al fenomeno. A esito delle operazioni, un indagato è stato posto agli arresti domiciliari mentre gli altri due sono stati ristretti in carcere. Ed ora parliamo di uno degli argomenti principali delle ultime giornate, ovvero il caro carburanti perché ci sono delle novità importanti. Le accise per ora non scendono, ma il governo è pronto a intervenire quando però ci saranno maggiori incassi dall'IVA. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, cercando così di placare la tensione salita alle stelle dopo le misure decise dall'esecutivo contro i rincari. Gli interventi non vanno giù ai gestori che scelgono la strada dello scontro aperto. Vanno all'attacco contro l'ondata di fango gettata sulla categoria e proclamano due giornate di sciopero a fine mese, il 25 e 26 gennaio, con presidio sotto Montecitorio. Il prezzo del carburante ovviamente vola anche in Sicilia. I rincari si registrano soprattutto nelle isole minori, dove il costo al litro in alcuni casi sfiora i 2,50 euro. Il record spetta all'isola di Ustica, nella Palermitano, con un prezzo di 2,49 uguale sia per la benzina che per il gasolio. Al secondo posto c'è invece l'isola di Lampedusa, dove un litro di gasolio costa 2,42 euro, mentre la benzina è a 2,39 euro. Al terzo posto Pantelleria, con il gasolio a 2,25, mentre la benzina è a 2,19 euro. Un altro caso che invece riguarda strettamente la regione siciliana è quello ormai denominato Cannes, il cosiddetto caso Cannes. L'assessorato regionale siciliano al turismo ha revocato il finanziamento di 3,7 milioni per la partecipazione della regione siciliana al Festival di Cannes. Lo ha annunciato il governatore siciliano Renato Schifani in un'intervista rilasciata ieri al TG4. Lo stesso Schifani, il giorno precedente, aveva firmato la direttiva che intimava all'assessorato la revoca in autotutela del finanziamento dopo il parere dell'Avvocatura generale. Parliamo adesso di Covid. Come di consueto, ogni settimana la regione siciliana ha diramato il bollettino per fare il punto della situazione. Il dato che emerge nell'ultima settimana è che in Sicilia sono in lieve incremento sia i nuovi contagi da Covid che le ospedalizzazioni. Ma vediamo tutti i dettagli nel bollettino. Nella settimana, dal 2 all'8 gennaio, in Sicilia si è assistito a un lieve incremento delle nuove infezioni da Covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284, più 3,47%, rispetto alla settimana precedente. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e gli over 90. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale, nella settimana di riferimento, è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda le vaccinazioni, i soggetti nel target 5-11 anni con almeno una dose si attestano al 24,9%, sono 63.827 i bambini, pari al 27,71%, che hanno completato il ciclo primario. Nel target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 90,93%, sono ancora 1.057.593 i cittadini che non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.772.333, pari alla 72,39% degli aventi diritto. Le somministrazioni della quarta dose sono complessivamente 226.408, di cui 200.259 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 7.173. Il periodo delle festività natalizie appena trascorse ha ovviamente impegnato molto anche gli agenti della Polfer, della Polizia Ferroviaria, impegnati nelle principali stazioni siciliane. Allora andiamo a vedere proprio un bilancio delle attività svolte in quel preciso periodo dell'anno. 6.574 persone controllate, 7 indagati, 68 veicoli spezionati e 7 sanzioni amministrative elevate. Sono questi i risultati ottenuti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia nelle festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse. Nel complesso sono state 426 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 75 quelle a bordo treno che hanno consentito di vigilare 141 treni sia a breve che a lunga percorrenza. 35 i servizi antiborseggio in abiti civili, volti alla prevenzione e al contrasto di reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa, anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. 3 i minori stranieri rintracciati a Catania, Messina e Palermo riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati. Il 28 dicembre si è svolta la tredicesima giornata Stazioni Sicure organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nel corso della quale sono stati effettuati controlli straordinari nei maggiori scari ferroviari della regione, sui treni e in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. All'inizio di gennaio si è anche svolta la prima giornata dell'anno Rail Safe Day, mirata a contrastare comportamenti impropri nonché l'indebita presenza di persone non autorizzate in ambito ferroviario. L'operazione ha portato all'elevazione di sanzioni amministrative a quattro persone a Catania e una a Messina, per il mancato rispetto delle norme del regolamento di polizia ferroviaria. Due persone colte da malore alla stazione di Palermo Centrale sono state infine soccorse dagli agenti della Polfer in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Per seguita e aggredisce l'ex convivente a Catania, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto e condotto in carcere un uomo violento. Il personale delle volanti è intervenuto in via Plebiscito a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna la quale era stata poco prima aggredita dal proprio ex convivente. Quest'ultimo si era però allontanato prima dell'arrivo della Polizia. Dopo circa un'ora è giunta un'ulteriore richiesta di intervento da parte della stessa donna che segnalava il proprio convivente il quale si era introdotto nella sua abitazione dopo aver infranto una finestra. Anche in questo caso però l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della pattuglia. La donna che già in passato aveva denunciato l'uomo per i continui episodi di violenza di cui si era reso autore nei due anni di convivenza ha formalizzato un'ulteriore denuncia per i fatti occorsi nella serata fornendo anche ai poliziotti la foto del proprio ex. Gli operatori lo hanno riconosciuto immediatamente in quanto soggetto già noto per i suoi precedenti e quindi si sono messi immediatamente alla sua ricerca individuandolo sul posto di lavoro in cui nel frattempo si era recato. L'uomo già destinatario di ammonimento del questore ha confermato tutto quanto riferito dalla donna ed è stato accompagnato in questura per ulteriori accertamenti. dei fatti di cui si era reso autore è stato subito informato il PM di turno il quale ne ha disposto l'arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e l'accompagnamento presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida. Ladri in azione, sempre a Catania, sono due i malviventi tratti in arresto dalla polizia. Il personale delle volanti è intervenuto in via Dottor Consoli all'angolo con via Orto San Clemente dove erano stati segnalati due individui che stavano asportando delle pedane da un ponteggio. Giunti sul posto gli agenti hanno notato un individuo che alla vista della polizia è salito repentinamente su un'auto dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Rocca Romana dove il soggetto, un noto pregiudicato, è stato bloccato e immediatamente sottoposto a perquisizione personale. Addosso li sono stati trovati tre cacciaviti, un tagliacarte e uno storditore elettrico. Tutto sottoposto a sequestro. Sulla vettura utilizzata per la fuga sono state invece rinvenute tre pedane in alluminio poco prima asportate in un cantiere. Dai successivi accertamenti estesi all'autovettura usata dal malfattore, questa è risultata essere oggetto di furto. L'uomo è stato quindi tratto in arresto per i reati di furto aggravato e ricettazione, sempre a Catania, personale delle volanti in transito in via Ingegnere ha notato un'autovettura che ne stava spingendo un'altra, intuito che potesse trattarsi di un furto in atto. Gli agenti hanno raggiunto immediatamente le due auto i cui occupanti alla vista della polizia si sono dati alla fuga. Uno dei due, dopo aver abbandonato il mezzo che veniva spinto con motore spento, senza freno di stazionamento e in salita, è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo per le vie circostanti. L'altro soggetto, un pregiudicato per reati specifici, è stato invece rintracciato alla guida dell'altra auto in via Mafalda di Savoia ed è stato immediatamente arrestato. Dalla perquisizione personale è emerso che lo stesso era in possesso di cacciaviti e strumenti atti allo scasso che sono stati sequestrati. Entrambe le auto utilizzate dai malviventi erano state oggetto di furto e dopo aver rintracciato i proprietari venivano loro restituite. Gli agenti hanno poi individuato anche l'altro malvivente, fuggito nell'immediatezza dei fatti. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per i medesimi reati del complice. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti.